Se il consenso attorno ai sindaci in generale ad inizio 2016 sembra risalire, il discorso non vale per il primo cittadino di Frosinone, Nicola Ottaviani. Lo dice un sondaggio realizzato dai PR Marketing il sole 24 ore. La rilevazione effettuata infatti ci dice che il 48% dei frosinati sarebbe disposto a rivotarlo. Un anno esatto fa lo stesso sondaggio dava al primo cittadino del capologo Ciociaro il 51% dei consensi. In 365 giorni dunque, stando sempre alla rilevazione del sole 24 ore, Ottaviani ha perso il 3%. Rispetto invece a quando fu votato, era il 2012, il sindaco di Frosinone fa registrare un calo di consensi del 51%. In questa classifica del sole 24 ore Ottaviani è in 89esima posizione su 101 sindaci in compagnia dei primi cittadini di Genova, La Spezia, Messina, Foggia e Catanzaro. Analizzando poi la classifica nel suo insieme, al primo posto c'è un sindaco di centrodestra, Paolo Perrone di Lecce, con il 62,5% dei consensi. In seconda posizione ancora un esponente di centrodestra, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnano. In terza posizione invece il primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, centrosinistra. Analizzando sempre tutti i dati, emerge che il 54,8% degli elettori interpellati si è detto disponibile a rivotare chi guida oggi la propria città, con un aumento dell'1,4% rispetto al 2015. Su questo dato però influiscono i nuovi eletti nella tornata dello scorso anno. Se nel calcolo infatti si considera solamente che era già sindaco, il gradimento medio scende all'1,2%. Grazie a tutti.